Allora, salve a tutti! Questa è la rigenerazione, va bene? Una rigenerazione fatta con l'arte magica, va bene? Nella quale vi farò vedere come rigenerare e come trasformare, va bene, in MTL questo qui che è il Dwarve Dwarve DL quindi in teoria un Dwarve che è fatto per il flavor, diciamo così per il polmone, il flavor più che altro e che in teoria non si dovrebbe usare, va bene, in MTL ma noi siamo delle persone pessime, ce ne stiamo fottendo altamente e lo facciamo diventare un bel MTL dal tiro neanche tanto aperto e neanche tanto aperto comunque non ci perdiamo in chiacchiere questo Dwarve, va bene, è un 24 mm quindi sulla Pico non ci va, sulla Pico 25 ci va faccio vedere la differenza, va bene? vado a prendere un altro Dwarve, un nemichè qua faccio vedere la differenza, va bene? con un Dwarve MTL allora Dwarve MTL Dwarve DL 24, 22 ma quanto mi piace fare queste cose da scimonite comunque questo Dwarve ha un deck, come vedete praticamente uguale al Dwarve MTL solo un po' più grande vedi che scoperta, che novità vedete? qua c'è una coil già fatta che tutto sommato è ancora Ebb Dutz la potrei tenere però facciamo la rigenerazione anche perché dobbiamo far vedere una cosa di serie questo Dwarve esce come gli altri Dwarve con questi aspetta che devo prendere quella giusta con queste vitine va bene? che funzionano con la chiavetta esagonale che sono una camorria tremenda vaffanculo ma perché dovete fare ancora nel 2018 le cose con la chiave esagonale? sono scomode scomode infatti vediamo che micchia devo combinare in questa recensione comunque il Dwarve in sé per sé quindi essendo DL ha un burtuso piuttosto grande va bene? ha un burtuso dal quale entra l'aria piuttosto grande e allora che facciamo? io ho fatto ho preso un rotolino di mesh va bene e ce l'ho feccato dentro vedi? un rotolino di mesh non mi chiedere che tipo di mesh è che maglie sono che cosa è che cosa non è perché non lo so non ne capisco un cazzo di mesh ho provato a fare una volta una rigenerazione con un atomizzatore a mesh ho perso due ore della mia vita è stata una tragedia non mi funzionava mai niente hot spot gente che si sentivano male ambulanze alluvione terramote l'Etna che cosa comunque questo è un modo molto bello e fantasioso per usare la mesh mettiamo questo rotolino qua dentro va bene ce lo ficchiamo e pappete ecco che il nostro flusso d'aria si riduce tantissimo il nostro flusso d'aria sotto coil ma quanto ne so comunque per questa rigenerazione visto che c'è un bel deck cecigno ma vogliamo restare sull'MTL utilizzeremo un 27 gauge va bene un po' più grosso del 28 gauge ecco tagliamone un pezzo e facciamo la resistenza e facciamo una resistenza non troppo bassa piuttosto alta di questo 27 gauge ne facciamo che dite 5 o 6 spire ci manteniamo sull'eterosessualità e allora facciamone 6 spire su puntata 2 e mezzo e allora 1, 2 3 4 5 e 6 ok poi così distanziate gli diamo quel colpo di pa ed ecco le nostre 6 spire giustamente distanziate dopo che le andiamo a montare ah questo che bello ah ma quante ne so quante ne so con questa stramaledetta chiavetta a brugola che io gli darei fuoco ancora nel 2018 le viti a brugola ma dove siamo il paradiso della brugola Aldo Giovanni e Giacomo ma dove siamo dove siamo centriamo un po' la coil la sistemiamo quel poco che ci basta vabbè buono magnifica magnifica togliamo l'eccedenza con il nostro tagliaunghie da tita grossa del piede va bene togliamo l'eccedenza pappete 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 hai visto che ci è voluto ci è voluto cane infedele che non sei altro guarda che simpatica questa coil guarda 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 che belle spire tutte guaglie tutte così bene scendiamo la nostra bocchi si andiamo a vedere quanto ci è venuto va bene 1 e 11 beh 1 e 9 si beh ora si deve assestare allora mettiamo 12,5 diciamo e vediamo che succede andiamo a ruotare la coil eccola qua eccola qua bene siamo su ah addirittura 1,3 proprio maschialissima questa coil e allora spingiamola bassi 1,2 si insomma tempo che sta a sesta spingiamola a circa 12 watt per si e per no oggi domani è un concorso non si può sapere mai prendiamo un pezzo del nostro cotton shoes va bene del nostro cotton shoes che prima avevamo cosato con le dita così e bla 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 ne assottigliamo va bene una delle due punte va bene guarda ecco in modo tale che ce la possiamo ficcare va bene la box la la blocchiamo in modo tale anche che se anche dovessimo premere il pulsante fire non succede niente e andiamo a mettere va bene questo cotton shoes qua ci facciamo due bei baffi guarda dopodichè andiamo a prendere un ragazzo qua questo coso che serve va bene questi portosi va bene servono per poi far affluire il liquido all'interno del deck e così bagnare così il cotone va bene va bene mettiamo i fori sistemiamo i fori parallelamente con la coil con gli avvolgimenti va bene che morria più o meno parallelamente e andiamo a tagliare l'eccedenza di cotone va bene andiamo a tagliare l'eccedenza di cotone facciamo circa così va bene e andiamo a sistemare il cotone all'interno del deck in questo modo piegandolo un po' e formando una specie di S va bene va bene oh non è importante che riempiate tutto il coso di cotone basta che i fori attenzione qua c'è un filo che sarà attaccato alla calamita i fori di alimentazione va bene del liquido siano completamente ricoperti dal cotone ma che è sta cosa c'è una guarnizione che esce le recensioni più fituse dell'universo questo per non metterci un pochettino di burro cacao aspetta aspetta guarda ce la mughiamo te l'urdo resistemiamo un po' meglio il cotone che l'avevamo sminchiuliato un po' va bene va bene ecco qua va bene chi ha regenerazione fatosa però mi riescono tutte per cui va fa un toculo bene perché ho preso il bayamo macanudo che è un sigaro macanudo e cola è proprio cola l'estratto di cola avete presente la cola della coca cola però solo la cola senza la coca perché questo secondo me è un atomizzatore particolare un po' scemo che nasce di L ma con un po' di mesh ficcata nel portuso dell'aria praticamente diventa MTL e questo è un aroma un po' scemo secondo me perché sigara e cola ma quando si è visto mai comunque bayamo dunque è tanto tempo che non lo facciamo bayamo bene dopo questa vergogna assoluta di questa canzone andiamo a bagnare gli avvolgimenti uno due tre anche quattro gocce va bene andiamo a bagnare i baffi andiamo a bagnare i baffi eh aspettiamo che il cotone si assorbiscono va bene caro mio che termini aulici che uso oltre che spaventosamente indecenti per quanto riguarda la lingua italiana e andiamo a riempire il nostro tank va bene con il nostro bayamo è tanto tempo che bayamo riempiamo il nostro tank certo che sta canzone già la recensione la rigenerazione fa schifo sta canzone cantata così non ti dico qua siamo a alte livelli caro mio e andiamo ad avvitare il tank sulla eh sulla nostra base e voilà e adesso con una spumatura degna di Lars von Trier passiamo alla prova di sbapo e le considerazioni finali yeah e allora successivamente la coil si è assestata su un ohm circa 0,98 una cosa del genere e si come penso possiate vedere non so se si capisce comunque e allora l'ho impostata su 14,5 watt questo questo dwarve dl praticamente si si può usare un mtl basta metterci il rotolino di mesh aroma ottimo come il dwarf con il mtl basta compratelo che vi devo dire di più dwarf dl che diventa mtl yeah yeah